Alla terza votazione il consigliere regionale del PD Antonio Mazzeo è stato eletto nuovo presidente del Consiglio regionale toscano durante la prima seduta dell'undicesima legislatura. Mazzeo ha ottenuto 36 voti a favore su 41. Subito dopo sono stati eletti due vicepresidenti, Stefano Scaramelli di Italia Viva e Marco Casucci della Lega. Gli altri due membri eletti dell'ufficio di presidenza, organo strategico per la gestione delle attività del Consiglio regionale, sono in veste di segretari Federica Fratoni Pistoiese, esponente del PD, e Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia. La seduta è proseguita con la presentazione del programma di governo da parte del presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni, raccolto in 149 pagine e 21 titoli. Gianni ha indicato come centrali due settori, la sanità mai così rilevante con l'emergenza Covid e il lavoro. Poi Gianni ha presentato sette componenti della nuova giunta regionale, sono gli esponenti del PD Alessandra Nardini di Pisa, Stefano Cioffo di Prato, il senese Simone Bezzini, il lucchese Stefano Baccelli, Monia Monni di Firenze e Leonardo Marras di Grosseto, più Serena Spinelli di Sinistra Civica Ecologista, anche lei di Firenze. L'ottavo posto in giunta, previsto dallo statuto, per ora non è stato assegnato, ma il presidente Gianni si è riservato di completare la squadra entro la prossima seduta consigliare, prevista per mercoledì 21 ottobre. Le deleghe dei vari assessori saranno invece assegnate al momento della Costituzione della Giunta. Gianni ha poi indicato Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Jacopo Meglio come consiglieri delegati, che parteciperanno quindi ai lavori della Giunta, prospettando inoltre una futura iniziativa di legge per portare a 9 il numero dei componenti dell'esecutivo regionale, così come consentito dalla norma nazionale, ed introdurre la figura del sottosegretario alla Presidenza, come già fatto dall'Emilia Romagna. Grazie. Grazie. Grazie.